Benely, basta scappare. È ora di finirla. È una follia. Devo fare appello al Martin Lee che conosco, il fondatore dei Fist Center. Mi tocca, Schindel. Martin e Spider-Man. È una questione tra me e Osborn. So dell'incidente. So cos'è accaduto ai tuoi genitori. Incidente? Hai lo stesso cinismo di Osborn. I miei genitori sono morti a causa mia, per ciò che Osborn mi ha fatto. Il tuo passato non ti definisce. Puoi liberartene. Volevo fossero orgogliosi di me e volevo onorarne la memoria. Ma per farlo, Osborn deve rispondere alla giustizia. Non posso permettertelo, Martin. Il dolore di Lee, la sua rabbia, stanno alimentando il suo potere. Il dolore di Lee, la sua rabbia, stanno alimentando il suo potere. E' l'unico campione. No! No, Martin! Io te l'ho detto, mi dispiace. È stato un incidente. Io volevo aiutarti. Martin! Non aiuti le persone. Tu le usi. Martin! Non riavrai i tuoi genitori. Perché ti ostimi a voler salvare quest'uomo spregievole? Io voglio salvare te, Martin! Non cercare vendetta. Basta! No! Osborn merita una punizione. Troppo a lungo è infestato come una piaga questa città. Osborn merita il giusto castigo. Ma prima devi mettere fine a questa follia. Non mi ferme no! Basta! Non mi ferme no! Colpe di Osborne, ricadrando su di te! Questo è il vero me stesso! Questo è il vero me stesso! Non, 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 non... Non, 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 non No asporti il criminal Enorio! Reagisci, Martin! Puoi uscirne! No! Osborn deve soffrire! Non c'è! 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 La mia volontà è più forte! Sì, lo vedremo. Non posso mollare, ci sono quasi! Sì, lo vedremo. Sì, lo vedremo. Sì, lo vedremo. Osborne... ...deve pagare. Lo so. Ma non è questo il modo, Martin. Inutile. 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 Ehi! Ehi! Dov'è andato? Via. Ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No. Non in ospedale. Alla vista. Ci serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Hai... Maschere, guanti, strumenti sterili? Grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Oh mio Dio. Ce la farà. Deve riposare. Oh mio Dio. 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 Aspetta, piano! Dov'è Mai? Eh... Dicono che non le resta molto tempo. Adesso dove vai? Adesso dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Palli secchi, tigre. Palli secchi, tigre. Palli secchi, tigre. Allora... No. No, neanche questa. Forse ci siamo. No. Ah! No.